In merito all'emergenza in Veneto che cosa chiedete al Governo? Stiamo depositando una mozione per chiedere al Governo di derogare dai limiti del patto stabilità interno tutti gli investimenti necessari per la difesa idrogeologica. Pochi minuti fa con il Ministro Moavero ho chiesto che si attivi in Unione Europea perché visto che queste cose non capitano solo da noi ma capitano in Francia, in Germania e non ultima l'Inghilterra che ha una situazione simile alla nostra in queste ore che a livello Unione Europea si rivedano tutte queste tematiche. Chiediamo innanzitutto lo stato di calamità naturale che intervenga come interviene dalle altre parti d'Italia soprattutto che dia mano libera ai sindaci e alla regione togliendo quel patto di stabilità per cui noi possiamo investire serenamente su ciò che è l'assetto del nostro territorio. Chiediamo che la situazione venga riconosciuta per quello che è di estrema gravità. Si parla di problemi di alluvioni superiori a quelli generati nel 2010 che sono stati già molto pesanti per la provincia di Vicenza. Poi c'è il problema del bellunese con l'interruzione del servizio elettrico, la neve che è caduta come mai in 50 anni, è una situazione del tutto straordinaria che ha bisogno di strumenti straordinari. Noi abbiamo proposto ad esempio quello dell'esclusione del patto di stabilità di tutti gli interventi di tutela idrogeologica del territorio ma serviranno proprio anche, credo, degli interventi diretti da parte dello Stato perché la calamità è veramente grave. di sbloccare il patto di stabilità e di dare le risorse per poter finalmente fare quelle opere non solo emergenziali ma anche strutturali perché non succeda più quello che sta succedendo in Veneto e dunque un'altra alluvione. Qual è la situazione in Veneto? La situazione in Veneto? Siamo riusciti a fare delle opere grazie a Zaia e alla Regione. è stata un po' migliore degli anni passati ma ci sono ancora molti casi di esondazioni e di situazioni di allagamenti in molte province di tutto il Veneto in particolare nella bassa padovana ma sono successi casi anche nella bassa veronese e anche in altre province.